Come si sviluppano le operazioni societarie? Quali sono le fasi principali da considerare e gestire? Nel video precedente, di cui vi lasciamo il link in descrizione, abbiamo introdotto il tema delle operazioni societarie, aventi ad oggetto soprattutto la cessione di partecipazioni sociali e di aziende, in gergo le operazioni di M&A. Ci eravamo lasciati con un breve elenco delle principali fasi di questo tipo di operazioni, sulle quali ci soffermiamo ora. 1. Negoziazioni e lettera d'intenti. In questa fase le parti effettuano incontri nei quali scambiano informazioni preliminari e per lo più riservate, che non è stato possibile acquisire attraverso l'estrazione di documentazione depositata presso il registro delle imprese e altre fonti accessibili agli interessati. Fin da questo momento è dunque naturale la stipula, fra le parti, di accordi di riservatezza o non-disclosure agreement, in modo da tutelare le informazioni riservate fornite dalla parte cosiddetta rivelante alla parte cosiddetta ricevente. Quando la situazione è matura, le parti stipulano una lettera d'intenti o LOI, letter of intent, nella quale pattuiscono una roadmap di massima con riferimento alla struttura dell'operazione da realizzare, ma che spesso contiene vere e proprie clausole contrattuali vincolanti o binding, cioè generatrici di precise obbligazioni fra le parti, ad esempio in tema di riservatezza, tempistiche, esclusiva, effetti della due diligence, definizioni, non concorrenza, legge applicabile, giurisdizione, competenza, talvolta assistite da penali consistenti per l'ipotesi della relativa violazione. Tali clausole non di rado segnano profondamente il prosieguo delle negoziazioni e l'intera operazione ove poi realizzata, per cui è essenziale che le parti si facciano assistere dai propri consulenti fin dalla stipula della LOI. Guai dunque a ritenere sempre e comunque una LOI quale documento privo di contenuto e soprattutto effetti giuridici. Una clausola contrattuale è tale in ragione di elementi che prescindono dal nome, il cosiddetto nome iuris, del documento, lettera d'intenti e non contratto. Due due diligence. In questa fase l'acquirente svolge una verifica sugli aspetti di proprio interesse che riguardano la società nel mirino, non a caso definita in gergo società target. Al fine di conseguire una maggiore e comunque sufficiente consapevolezza sulla salute dell'ente e del relativo business. Naturalmente la profondità di tale verifica, e quindi la quantità e il rilievo delle informazioni messe a disposizione dal venditore attraverso la cosiddetta data room, dipende dalle intese fra le parti. E non è raro che il management della target pretenda, prima di consentire una completa disclosure, che sia sottoscritto un contratto che preveda l'impegno a proseguire nell'operazione, a determinate condizioni e tutele adeguate. Tipicamente la due diligence si definisce legale e fiscale in quanto ad oggetto. Gli aspetti legali Assetti societari, contratti e altri rapporti giuridici, beni mobili e immobili, proprietà intellettuale e industriale, rapporti relativi ai dipendenti, stato del contenzioso, compliance ambientale, privacy, regolamentare, ecc. Gli aspetti fiscali Gilanci e situazioni di riferimento, dichiarazioni e versamenti, accertamenti ai contenziosi, imposte, ecc. 3. Contratto di acquisizione Terminata la due diligence, se non sono emerse circostanze ostative rispetto alla prosecuzione dell'operazione, le parti sottoscrivono il cosiddetto contratto di acquisizione o SPA, Sale and Purchase Agreement, il quale contiene, anche per il tramite di numerosi allegati, spesso a propria volta molto complessi, come nel caso dei patti parasociali, la disciplina dell'operazione, ossia, tra l'altro, le premesse, con riferimento all'intento e alle determinazioni delle parti, nonché ai passi già compiuti, fra cui loi e due diligence, l'oggetto dell'operazione, ad esempio l'accessione di un determinato pacchetto di maggioranza, il prezzo pattuito e relativi termini di pagamento, nonché eventuali earn-out, il regime interinale, interim period, quando, con riferimento al periodo ricompreso, fra la stipula dello SPA, il signing, e la stipula dell'atto notarile di trasferimento, il closing, è necessario che le parti pattuiscano le modalità in cui il venditore debba proseguire nell'attività d'impresa, tenendo conto dell'interesse dell'acquirente in quanto destinato a subentrare nella gestione del business. Le dichiarazioni e garanzie, representations and warranties, dell'acquirente e soprattutto del venditore. Il regime degli indennizzi, con particolare attenzione alla previsione di procedure, limiti temporali e limiti patrimoniali, de minimis, franchigie, cap, clausole sole remedy e indennizi specifici, ecc. Le clausole relative alla giurisdizione, alla competenza e più in generale alle regole d'ingaggio per la definizione di eventuali controversie sorte fra le parti. 4. Closing L'atto davanti al notaio può risolversi talvolta in una formalità, in particolare quando lo spa è esaustivo e le attività da svolgersi davanti al pubblico ufficiale e prima della stipula sono modeste. Lo scenario è più complesso quando le parti hanno stipulato un contratto preliminare che rinvia la definizione di aspetti molteplici e o significativi al momento della stipula dell'atto notarile. Nel qual caso è tipico che le parti si impegnino in negoziazioni con l'obiettivo di pervenire a un testo condiviso dell'atto da sottoscrivere al closing. Peraltro non è raro che le parti assumano con lo spa e o con l'atto notarile una serie di obbligazioni il cui adempimento è previsto per un tempo successivo al closing, nel qual caso gli imprenditori e i loro consulenti dovranno vigilare sul rispetto dell'intese anche per lunghi periodi di tempo, pena incorrere in violazione degli accordi che possono dar luogo a procedure di indennizzo e controversie. Nei prossimi articoli prenderemo in considerazione le singole fasi della gestione delle operazioni societarie, concentrando l'attenzione sugli specifici istituti e sulle principali problematiche ad essi relative. Iscrivetevi al nostro canale YouTube. Abbiamo un'intera sezione dedicata al diritto commerciale. Per maggiori informazioni visitate il nostro sito e seguiteci sui social media.